La soluzione è stata bene, un viaggio insieme in un paese così. La soluzione è stata bene, un viaggio insieme in un paese così. La soluzione è stata bene, un viaggio insieme in un paese così. La soluzione è stata bene, un viaggio insieme in un paese così. La soluzione è stata bene, un viaggio insieme in un paese così. Grazie.